Buonasera, benvenuti a una nuova puntata di Sport Paper TV. Oggi già abbiamo iniziato malissimo con i tag, visto che stavamo mettendo una storia a Instagram. Un nuovo ospite con noi questa sera per parlare insieme del campionato che è giunto finalmente definitivamente al termine dopo il recupero tra Atalanta e Fiorentina. Match vinto dalla Fiorentina, ma nulla di nuovo ce l'aspettavamo più o meno, visto che aveva ancora un minimo di ambizione per togliere al Torino la speranza di andare alla prossima conference. Tanto si è fatto in questo campionato, quasi niente è cambiato, visto che la Roma tornerà in Europa League, visto che la Fiorentina tornerà per l'ennesima volta a giocarsi la conference e non è cambiato neanche l'ospite. Alla mia sinistra, come ogni lunedì, non molla la poltrona il nostro Daniel Amore. Anche virale. Dunque, dicevo, campionato giunto al termine. Niente di inaspettato. La vittoria della Fiorentina io un pochino me l'aspettavo. Vedere comunque, per quanto riguarda i tifosi della Roma, essere lì di nuovo in Europa League con il Bologna e l'Atalanta, che si distaccano per un sol punto, considerando anche la sconfitta inaspettata che ha subito il Bologna dal Genova, un po', insomma, brucia. Qual è la partita, Adriano, che non perdoni alla Roma di aver sbagliato? Non è proprio un'età, cioè, giovane, se fa un altro lavoro per un atleta, con tutti questi infortuni alle spalle, comincia a essere un'età nella quale devi fare le scelte per la vita, calcissi che le devi fare in maniera giusta e ponderata. Ci fermiamo per la pubblicità, rientriamo subito perché Adriano aveva qualcosa da dire, mi sei a merito a Zaniolo. Prendere la procura di Zaniolo ci volessero, cioè, si diceva che ci volesse una cifra, una ghisolfì, però sicuramente sono nomi che sanno di ridimensionamento. Quanto ci credete? Questo discorso così parliamo anche di tutti gli altri allenatori, visto che Palladino è pronto a firmare a Firenze, Conte ha chiuso con il Napoli, Allegri ha rescisso in maniera pacifica il contratto con la Juventus. Pacifica, per modo di dire, vabbè, però devo dire che solo se chiami i giovani, perché se chiami un campione, il campione gli dice, sì, ok, sul campo hai fatto, ma magari sul campo quello ha fatto più di te, se non è più giovane. Quindi, secondo me, l'ascendente può avvalere sui giovani, ha anche un senso, il progetto giovani che vuole costruire pubblicità. E grazie a tutti voi che ci seguite, come sempre numerosi da casa, appuntamento a lunedì prossimo, ciao!